L'arma del delitto, un coltello lungo ben 16 centimetri di cui l'autore si era disfatto, avrebbe consentito agli investigatori di risalire al 39enne arrestato a Niscemi, indagato di tentato omicidio aggravato, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e minacce aggravate nei confronti di un conoscente. I fatti risalgono al 21 dicembre scorso a Niscemi e il 10 gennaio i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Gela. Le indagini, avviate da subito dagli uomini del commissariato, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica gelese, hanno permesso di individuare il presunto autore e di rinvenire, nei luoghi dell'evento, l'arma del delitto. È stato proprio il quadro indiziario emerso dalla ricostruzione degli eventi che ha fatto sì che la Procura della Repubblica gelese richiedesse al GIP la misura cautelare che, valutata e vista la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto l'uomo al carcere di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria.